E' una coppia di anziani torinesi la protagonista di uno spettacolare incidente stradale avvenuto questa mattina lungo l'argine sinistro a Imperia che soltanto per una fortunata coincidenza non si è trasformato in tragedia. I due 85 anni il marito, che era la guida dell'auto, un Alfa Romeo mito e 84 anni la moglie, sono stati estratti dalle lamiere contorte del veicolo dai vigili del fuoco e affidati alle cure di 118 croce rossa e croce bianca. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale a Imperia con diversi traumi ed escoriazioni, ma per fortuna non sono in pericolo di vita. L'auto della coppia si è cappottata in mezzo alla strada mentre viaggiava in direzione monte dopo aver urtato la ringhiera posta a protezione del ponte che attraversa il rio Liveto. Fortuna ha voluto che in quel momento nessuno si trovasse a transitare dalla direzione opposta, altrimenti l'impatto sarebbe stato tanto violento quanto inevitabile. La Polizia Municipale sta ora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e soprattutto per capire cosa lo abbia causato, un colpo di sonno, un malore oppure una semplice ma fatale distrazione. Sul luogo dell'incidente in mattinata è giunto anche l'assessore Antonio Gagliano. Il traffico per tutta la durata delle operazioni di soccorso, protrattesi per circa un'ora, è stato deviato attraverso via Andreoli e lungo il nuovo tracciato sotto la ferrovia.